Assessore, parte l'operazione, strade sicure, abbandono delle autovetture più che altro? Abbandono delle autovetture che ormai da tempo stanno interessando tutte le strade cittadine, vetture abbandonate che sono ricettacolo di spazzatura, di rifiuti lasciati dentro e diventano una bomba ecologica. Noi stiamo cercando di dare una mano al settore ambiente e alla cittadinanza tutta, cercando di eliminare queste auto che da troppo tempo persistono sulle strade comunali. Oggi tocca a Piazza Milano, ci sono circa 8-9 macchine abbandonate che saranno controllate, saranno fatti gli accertamenti del caso e dopodiché saranno asportate tramite il carroattrezzi. Vogliamo un arreggio più pulita, dobbiamo collaborare tutti, questo è un inizio, non è la fine, sicuramente si continuerà su questa strada, saranno interessate successivamente nelle prossime giornate anche altre aree di cui abbiamo avuto già segnalazione, come la zona di Ciccarello all'interno delle palazzine popolari e tante altre segnalazioni che da parte dei cittadini si stanno avendo. Finalmente il reggio si sta svegliando, la collaborazione del cittadino è fondamentale affinché questo possa essere supportato da un risultato, perché l'impegno delle forze di Polizia Municipale c'è, però è chiaro che abbiamo bisogno delle segnalazioni, il reggio è grande, non ci sono più, teniamo anche in considerazione, non ci sono più le circoscrizioni, quindi per quanto ci gira alcune volte non si ha conoscenza, quindi abbiamo chiesto la collaborazione del cittadino che finalmente sta rispondendo. Comandante, in questa città con il suo arrivo qualcosa si muove, oggi c'è un'operazione da voi qui a Piazza Milano, ne parliamo? Sì, è un'attività di antidegrado urbano, stiamo rimuovendo 7-8 veicoli abbandonati probabilmente da molti anni, è anche un segno di vicinanza al territorio nella sua interezza. Sappiamo che alcune situazioni anche visive creano degrado, creano situazioni visive di abbandono e quindi cerchiamo di fare queste attività che possono anche essere apprezzate dai cittadini perché si tratta di dare una nuova qualità a un territorio che lo merita. Qual è la sanzione adesso che hanno questi cittadini che hanno abbandonato questo autovettore? Allora, noi riteniamo che siano tutti veicoli, non potrebbe essere altrimenti, stante lo stato di abbandono, privi della prescritta copertura assicurativa e quindi saranno sanzionati senza il 193 del codice della strada e saranno contestualmente sequestrati amministrativamente, affidati quando possibile ai soggetti e quindi levati dalla pubblica via. Continua ancora questa cooperazione qui in città? Sì, diciamo che ci muoviamo un po' su larga scala, questa è solo una delle tante attività che abbiamo intrapreso grazie anche alla direzione dell'assessorato che ci sta vicino in tutto e per tutto. Lavoriamo a 360 gradi sia sui rifiuti, sull'antidegrado, sul codice della strada, sui servizi contro le alte velocità, insomma, stiamo cercando di dare un segnale importante che possa essere percepito dai cittadini come anche un minimo di svolta rispetto a un'attività che comunque c'era, ma cerchiamo di rinvigorirla anche alla luce di quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione mi ha conferito, seppur per questo breve periodo di mia permanenza, almeno temporaneamente.